Un'opportunità in più per venire incontro alle esigenze di chi ha poco tempo per gestire questi aspetti? Sì, il Comune di Fanno ha attivato sul sito istituzionale un portale per il pagamento online che consente di poter procedere ai pagamenti elettronici così come è previsto dalla normativa in maniera conforme per i sistemi pubblici. Questo è un servizio che mettiamo a disposizione dei cittadini per rendere più agevole anche il rapporto con l'ente locale. Negli ultimi anni i cittadini sanno abbiamo attivato una serie di servizi online, soprattutto di sportello per quanto riguarda i servizi educativi e i servizi sociali che hanno facilitato abbastanza le modalità di rapporto con il Comune tanto è vero che oggi quasi un 40% dell'utenza per diversi servizi fa riferimento allo sportello online anziché a quello fisico presso i nostri uffici. Con Pago.pa è possibile poter adempiere le proprie posizioni debitorie nel confronto dell'ente locale attraverso un pagamento elettronico. I servizi che saranno coinvolti sono per i servizi educativi le rette di asilo nido e i servizi alla prima infanzia la messa scolastica e il trasporto scuolabus. Per i servizi sociali invece sono le rette di espiritualità presso il centro residenziale per anziani Don Paolo Tonucci, le rette di frequenza al centro di urno per disabili il CTL San Lazzaro, il servizio di assistenza domiciliare SAD e il servizio di trasporto sociale. Chi vuole seguire la via tradizionale però naturalmente lo può sempre fare, questo è un più. Sì, esattamente. Comunque i servizi sociali, i servizi educativi con i propri uffici sono sempre a disposizione e si potrà continuare chiaramente per chi volesse anche con le modalità tradizionali.